ecco il cassetto delle magliette di mille accendini qua sono piegate nel modo che ho spiegato nel video tutorial su mille accendini come piegare le magliette piegate in questo modo come fanno i marines perché così piegate le puoi mettere in un attimo le puoi mettere in un attimo dentro la borsa e non si mischiano tra di loro vedete sono piegate un po come come se fossero i calzini vediamo vedete questo cassetto delle mutande sono piegate allo stesso modo qui non si mischiano vedete come io le prendo le muovo le riappoggio tutto quanto a posto invece le magliette piegate in modo tradizionale se io voglio prendere l'ultima maglietta faccio un bel casino rispiego tutte le altre e posso confermare che le magliette non si inciaffano assolutamente anzi secondo me sono più stirate che rispetto al modo tradizionale quindi se volete sapere compiegare le magliette in questo modo vi metterò il link in descrizione del video che lo spiega è sia per pagare i calzini le magliette le mutande i giubbotti e anche i pantaloni anche i pantaloni diventano un mallopetti in questo modo e quindi se dovete fare una valigia o uno zaino preparate tutto quanto in un attimo e riuscite a riprendere anche l'ultimo oggetto dello zaino senza bisogno che le magliette si inciaffino tutti quanti quindi mi raccomando pollicino